Internet e noi, che cosa ci aspetta nel mondo virtuale? Forse oggi il titolo ha bisogno di due parole di introduzione. Allora, perché innanzitutto la prima parte, Internet e noi? Ecco, noi vorremmo riflettere insieme ai nostri amici di Mappe, non solo in questa puntata, ma anche nella prossima, sul fatto che ormai la rete, Internet e il web fanno parte in maniera costruttiva del nostro essere, della nostra vita. Non si tratta di un uso di nicchia, di un uso di specialisti o di gruppi di persone particolari. È qualcosa che necessariamente ci tocca nella vita di tutti i giorni. Che cosa ci aspetta? È l'altro elemento, perché di fatto è un futuro che entra in maniera molto forte nel nostro presente. E poi nel mondo virtuale, ecco, è un termine che oggi usiamo abbastanza frequentemente, che avrà la pazienza, la cortesia di seguirci, si accorgerà che su questo termine vorremmo essere invece un pochino critici, perché molto spesso si usa la distinzione mondo virtuale, mondo reale, come se si trattasse di due aspetti opposti. A volte rimproveriamo qualcuno, magari un giovane, perché sta troppo su Internet, come si dice, come se il mondo fisico fosse qualcosa di diverso dal mondo virtuale. Vorremmo ragionare insieme ai nostri amici quanto invece queste realtà sono fortemente intrecciate. E in questa prima parte, in questo percorso che vedete in questo momento, diciamo, nell'immagine, in questo percorso ci vorremmo soffermare sulla prima tappa. La prima tappa che cosa esprime? Esprime l'idea del cambiamento. Il cambiamento è un qualcosa che ai giorni nostri per certi aspetti ci spaventa, perché vediamo delle modifiche nei comportamenti delle persone, dei giovani, direi, dei bambini molto forti dovuti al mondo digitale. Tutti noi, penso, ricordiamo la prima volta che abbiamo messo la mano sopra un mouse, in qualche misura eravamo un po' anche incerti su come se dovesse sincronizzare il movimento della mano con quella della freccettina sul monitor. E poi naturalmente abbiamo imparato. Ma l'abbiamo imparato dopo aver fatto esperienza della carta, dell'immagine, della lettura. Che succede alle generazioni, ad esempio, che fanno per prima l'esperienza del touch, dello schermo tattile. Qualche tempo fa, proprio su Mapp, ci siamo soffermati su questo. Abbiamo visto dei filmati di bambini molto piccoli che con grande immediatezza morivano le mani sullo schermo. E però, viceversa, quando poi erano davanti una rivista, erano convinti che le fotografie si potessero cliccare, spostare con le dita ed erano, come dire, stupiti del fatto che non accadesse nulla. Quello per dire quanto cambia il nostro modo di organizzare la mente e l'esperienza. Ora, c'è da dire questo, che in realtà il mondo è sempre cambiato nella storia. Solo che un tempo accadeva con un ritmo così lento che sostanzialmente non ce ne accorgevamo. Ci sono alcuni passi filosofici dell'antichità classica che dicono, beh, insomma, in fondo l'anello al dito si consuma, il vomere nella terra si consuma. Ma queste erano riflessioni appunto di pochi. La maggior parte delle persone nasceva in un certo ambiente, si sviluppava in quell'ambiente e poi quando moriva lasciava un mondo molto simile a quello che aveva conosciuto fin da piccola. Quindi l'idea del futuro, del cambiamento, dell'innovazione era qualcosa che era lontano. C'era questo aspetto, se vogliamo, anche rassicurante del fatto che il mondo era costante. Poi è successo qualcosa e lo vediamo, siamo in questa immagine a fine Settecento e gli studiosi ci dicono che proprio dal 1770 in poi è successo veramente qualcosa, cioè il progresso tecnico è diventato evidente. Quello che vediamo è così un'immagine simbolica, se vogliamo, è l'idea di una macchina che può trasformare con un sistema di ruote e ingranaggi il soffio del vento in una forza tale che riesce addirittura a sradicare una quercia, cioè l'idea che la tecnica dà all'uomo un potere che prima mai era stato visto. E in effetti, ci dicono gli storici, un contadino che fosse nato nel 1770, per la prima volta avrebbe visto durante la sua vita cambiare radicalmente il mondo attorno a lui. Cambiare perché la tecnologia era molto forte, molto importante. A questo proposito ci può forse aiutare un'immagine che magari molti dei nostri amici possono riconoscere. Si tratta di Dantès, il giovane Dantès nel conto di Monte Cristo, è in prigione accanto alla bate Faria, che ha costruito un cunicolo per poter evadere. E questo cunicolo a un certo punto sbuca proprio nella cella di Dantès e i due si incontrano e c'è un passaggio che credo valga la pena rileggere insieme. Sì, infatti prendiamo l'inizio delle parole di Faria che dice «Mi sono procurato della luce». «E come?» chiede Dantès. «Dalla carne che ci portano, separai il grasso, lo feci fondere e ne cavai una specie di olio compatto. Guardate, ecco qua la mia bugia». E Faria mostrò a Dantès una specie di lanterna uguale a quelle che si adoperavano nelle pubbliche illuminazioni. «Ma il fuoco? Ecco delle pietruzze e della tela bruciata. Ma gli zolfanelli? Ho finito di avere una malattia cutanea e ho domandato dello zolfo che mi è stato accordato». Dantès depose sulla tavola gli oggetti che teneva in mano e abbassò la testa, avvilito davanti alla perseveranza e alla forza di quello spirito. «Questo non è tutto», continua Faria, «poiché non bisogna mettere tutti i tesori in un solo nascondiglio. Chiudiamo ora questi». Riposta la pietra al suo posto, Faria vi sparse sopra un poco di terra, vi strisciò il piede per fare sparire ogni traccia, avanzò verso il suo letto e lo spostò. Dietro al capezzale, nascosto con una pietra che lo chiudeva quasi ermeticamente, c'era un foro ed in questo foro una scala a corda lunga da 25 a 30 piedi. Dantès l'esaminò, era di una solidità a tutta prova. «Chi vi ha fornito la corda necessaria a quest'opera meravigliosa?» domandò Dantès. «Da prima qualche camicia, poi qualche lenzuolo del mio letto ho sfilato nei tre anni di prigionia a Fenestrel. Quando sono stato trasportato al castello d'If, ho trovato il mezzo di portare questo filo e ho continuato il mio lavoro. Ma non si accorgevano che le vostre lenzuola erano senza orlo? Le ricucivo, con che? Con quest'ago». E quindi continuiamo tralasciando alcune parti il dialogo tra Faria e Dantès. «A che pensate voi?» domandò Faria ridendo e prendendo la distrazione di Dantès per un atto di ammirazione. Pensavo ad una cosa, alla quantità enorme di intelletto che avete dovuto impiegare per giungere al punto in cui siete arrivato. Che aveste dunque fatto se fosse stato libero? «L'enorme quantità di intelletto che avete usato». Infatti l'abate dice al suo giovane amico «Dio ci ha donato l'intelletto». In questo passaggio, che è il passaggio di un romanzo d'appendice, in realtà però si nasconde un riferimento molto classico. Ha un filosofo, che è Platone, che a un certo punto ha narrato il mito di due fratelli, Epimeteo e Prometeo, ai quali Zeus ha dato l'incarico di distribuire i doni agli esseri viventi. In realtà questo incarico l'avrebbe affidato soltanto Prometeo, perché Prometeo, come dice il nome, è colui che pensa prima. Quindi è il prudente, il saggio. E Prometeo, dando fede al suo nome, distribuisce a ciascun essere vivente una dote in maniera equilibrata. Quindi il leone avrà il coraggio, l'antilope avrà la velocità, l'aquila avrà la capacità di volare, la vista acuta e così via. A un certo punto però, dice il mito, Prometeo se ne va, deve andare via. E allora lascia questo incarico al fratello. Il fratello si chiama Epimeteo. Epimeteo vuol dire il contrario, cioè colui che pensa dopo, non prima, che non è previdente, ma in qualche misura piange sul latte versato, piange quando poi il danno è stato fatto. E infatti Epimeteo, che non sa pensare, come vediamo qui nell'immagine, ha un vaso in mano, largheggia, abbonda, dà tutto quello che ha in maniera casuale. Quando arriva l'uomo, che è l'ultimo degli esseri viventi a presentarsi per ricevere il suo dono, non c'è rimasto più nulla. L'uomo non ha quindi le doti che hanno gli animali, la capacità di correre, di volare, di vedere. Non ha nulla. E allora, dice Zeus, a questo essere daremo la tecnica, daremo l'intelligenza tecnica. Quindi l'uomo ha vissuto il cambiamento, e Platone ha capito questa grande verità, perché ha connaturato al suo stesso essere quello di usare insieme natura e cultura, il suo essere fisico e la sua tecnologia. Noi siamo tutti un po', come si dice, cyborg, nel senso che il nostro corpo non è fatto soltanto del corpo fisico che abbiamo, biologico, ma anche di estensioni. I vestiti che abbiamo addosso, ma anche le lenti, se portiamo gli occhiali, ma anche il telefono, ma anche la macchina, anche l'aereo, anche internet. Si tratta di estensioni del corpo e di estensioni della intelligenza. Ecco allora il primo punto che oggi vorremmo condividere con i nostri amici. Contrariamente a quanto si dice mondo virtuale, mondo reale, non sono contrapposti, ma rappresentano qualcosa di profondamente unito, addirittura fino dai tempi di Platone. Soltanto che oggi lo vediamo in maniera molto più forte, perché naturalmente questo tipo di abbinamento, questa presenza delle tecnologie non è marginale, come poteva essere ancora duemila, tremila anni fa. È qualcosa che certamente coinvolge la nostra vita quotidiana in maniera molto forte e ci introduce in un mondo che apparentemente è completamente artificiale, ma in realtà lo è dentro una sfera umana e su questo magari cercheremo di proseguire il nostro colloquio con i nostri amici di Mappe la prossima settimana. Grazie. Grazie per la vostra attenzione. Ricordate il blog e la possibilità di rivedere le nostre puntate sul sito www.tsdtv.it. Grazie a tutti.